Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi un nuovo video unboxing, spacchettiamo insieme la confezione della mia nuova lavazza Julie. Ho acquistato questa nuova macchina per il caffè dal sito di E-mail Award, l'ho acquistato online e me la sono fatta ricapitare direttamente il negozio. Mi è arrivata in soli tre giorni direttamente dal sed di Torino. All'interno della confezione troviamo un deppliant e una confezione di nuove capsule, tutte da provare. Le istruzioni per l'uso e montaggio. Ovviamente subito dopo c'è il macchinario stesso. Con questo acquisto online non c'era la possibilità di scegliere altri colori se non proprio il verde lime e sono stata quindi molto fortunata perché il verde lime era proprio il colore che io volevo. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.